Dalla redazione, nel cuore della rivista, buongiorno! Eccoci ad annunciarvi in edicola il numero di marzo. Si parte con l'anteprima Knauss, importante, dedicata a vari mezzi, nuovi, tutti nuovi, e poi si passa alla tecnica C, Eura, Mobil, Nisman Bischoff, Van Life e Weinsberg, che sono tutti i modelli che tratteremo in questo numero. Non mancano gli accessori Fiamma e VBR Suspension, per poi passare al Gran Turismo. Normandia, Helsinki per parlare un po' dell'estero, Trentino, che vedrete anche in copertina con un villaggio pallafettivolo un po' particolare, Cividale del Friuli, Ravenna, Marche, Otranto e per finire la Sardegna, anche questo è un po' particolare. Ci fai vedere la copertina allora? Certo, ecco la copertina, la copertina è questa. E le altre? E queste sono le scelte che noi facciamo tutti i mesi per scegliere. Una volta magari la facciamo scegliere a voi. Ciao a tutti!